Allora, Roberto Vecchioni, intanto una domanda. È la prima volta che viene in questa zona? No, direi di no, no, no. Ma io ho girato tutta Italia, figurarsi. No, no, però qui, 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 certamente no, è la prima volta, però a Rezzo, altre parti, sicuramente sì. Ma d'altro la Toscana ha dei segni di sentire spirituale che io conosco bene. Oltretutto la Toscana è un mondo, perché non si può dire che sia tutto uguale. Perché c'è una differenza abissale tra Pisa, Rezzo, Livorno, Firenze. È una nazione fatta di diverse mentalità, diversi tipi di cose. Però compende e tiene insieme alcune cose fondamentali che sono, prima di tutto, un grande amore per la vita, l'ospitalità, il senso della vita e poi per la cultura. Questo è fondamentale. C'è a Firenze, come c'è a Arezzo, a Pisa, a Porta dei Marmi, ovunque. E la musica è cultura? Sì, la musica, ma non tutta. La musica è cultura, alcuna musica sappiamo tutte fa schifo, non è cultura. Altra musica che sembra molto bella altrettanto non è cultura, secondo me, non faccio nomi. La musica è cultura quando ti fa uscire da te, quando ti fa esprimere pensieri che siano diversi da quelli soliti che hai dentro. Il concerto di stasera è un po' un'anteprima del suo nuovo tour che partirà a Milano, se non sbaglio. Ma questo è ancora il concetto dell'anno scorso, però io metterò delle cose nuove e dirò anche delle cose nuove, perché il 21 noi partiamo dal forum, dal Sago, con un concetto nuovo molto grosso, importante, che oltretutto è il titolo del romanzo, che si chiama La vita che si ama, e tutto il concetto si basa su questo concetto della vita che si ama, che è una sorta di autobiografia descritta ai miei figli, ai ragazzi, un po' di racconti della mia vita descritti ai ragazzi, ma per dimostrare niente, perché non sono un maestro, ma per dire che c'è sempre un angolo nella vita, passato il quale il dolore, la sofferenza, eccetera, non si vede più. C'è qualcosa di più oltre quell'angolo. Lei continua a insegnare, cosa le hanno dato i suoi ragazzi in tutti questi decenni? Molto più degli uomini, direi, molto di più. Qual è il brano a cui è più affessionato? O molto antico, soprattutto quelli che voi non conoscete e che nessuno conosce, e quindi sono brani che parlano di me, come il lanciatore di coltelli, il vecchio il mare, che per me sono i brani più belli, sono scritti su di me, proprio, ma molto di più di quelli più conosciuti. Gli altri va bene, sono più popolari, la gente più attenta, ci si confronta, eccetera, ma i brani che parlano di me sono questi, sono le piccole cose con gli affetti familiari, sulla madre, sul padre, queste cose sono belle. Uno dei suoi, e così concludo, uno dei suoi brani più famosi è sicuramente Lucia San Siro. Ecco, lei, da grande tifoso dell'Inter, come vede questo arrivo di cinese all'Inter? Ah, benissimo, era ora, effettivamente, non vedevo l'ora, perché non è che io sia un romantico inguaribile, il calcio è un business, basta che questi abbiano la stessa passione, una parte di quella passione almeno, io sono interista comunque, è forte per me. E poi siamo cosmopoliti, non è che possiamo pensare che tutto dipenda soltanto dalla tua regione, dalla tua città, dalla tua nazione, non siamo mica campanilisti, il campanilismo è un po' provinciale come cosa, il mondo è fatto di altre visioni, di altre situazioni, benvenga i cinesi.